e ciao a tutti ragazzi e buono in questo nuovissimo video oggi siamo qui vi faccio vedere questo nuovo blu ray che ho recuperato ed è il viaggio di norma da polo nord a new york questo non l'ho visto ancora lo devo recuperare come lo devo vedere qualche sera parti per l'avventura più divertente dell'anno questa è la copertina ragazzi eccola qua il viaggio di norma da polo nord a new york qui abbiamo il laterale qui abbiamo il retro qua c'è un po la trama alcune immagini del film con i protagonisti varie informazioni rai cinema in per tutti e questo è il retro ragazzi andiamo a vedere l'interno del blu ray tutto classico con il semplice disco con la copertina del disco diversa della copertina il viaggio di norma e niente ragazzi mettete viaggio commentare iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti